E due su tre sono andate, fa sembrare facile quello che non lo è, dato che lui anche in passato no, comunque si è trovato in difficoltà sul muro di Wii, quindi alla freccia vallone, dimostra anche di saper imparare insomma dagli errori, ricordiamo il Giro delle Fiandre dello scorso anno, quello che fece no, lo sbaglio che fece se vogliamo, assieme a Van Der Poel che poi vinse, quest'anno. Cioè voleva arrivare da solo, è arrivato da solo e ha vinto il Giro delle Fiandre. Qui alla freccia vallone, spesso è andato in difficoltà in passato in questa corsa, questo muro si è gestito male, non lo so, oggi gestisce, si mette lì davanti, fondamentale per lui come per gli altri non perdere, non perdere posizioni in questo muro di Wii, perché se poco poco rimani imbottigliato, già comunque stretto, già la pendenza, soprattutto nel tratto centrale, è del 19-20%, cioè puoi risalire se ti scatta qualcuno lì davanti, è veramente dura. Pogacar, ok, ha una gamba pazzesca, però, cioè, sempre lì davanti, in controllo, parte Bardet, lui gli sta a ruota, addirittura su Eurosport il telecronista principale, sembra non averne Pogacar. Cioè, lo ha sentito e ha detto, senti bello, stai zitto, scatta in faccia Bardet e non lo vede più nessuno praticamente. Anche lui fa fatica, no? Si vede in faccia perché il muro di Wii è una roba mostruosa, ma poi il fatto, cioè, ok, se si affrontasse solamente alla fine, ma il fatto è che comunque, Cote de Cherev, Cote de Ref, muro di Wii affrontato più volte, cioè, le tossine nelle gambe, la fatica nelle gambe si fa sentire, insomma, e alla fine, ok, corsa fra le classiche, insomma, la più corta, se non vado errato, fra le classiche più importanti, meno di 200 km, però, con tutti questi passaggi, soprattutto su uno di Wii, arrivi alla fine, che sei cotto, quasi, insomma. Siamo arrivati al termine della corsa, che c'erano comunque tanti elementi in gruppo, ecco, diciamo così. Quindi, anche questa è una cosa che magari ci si poteva aspettare poco, però, insomma, hanno resistito bene, però alla fine, sempre lui, sempre lui, Taddei Pogacar. Ben ritornati a tutti in questo nuovo video, iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra, qui sotto nei commenti, ovviamente, che dire. Ripeto, quasi 200 km di freccia a vallone, tra l'altro, freccia a vallone femminile, vinta da una mostruosa, da una mostruosa, Demi Vollering, che dopo l'Amstel fa su anche la freccia, condizione clamorosa, insomma, che gli vuoi dire. SD Works, squadra pazzesca, insomma, sappiamo. La Jumbo del ciclismo femminile, un po', se vogliamo, e quindi, congratulazioni comunque a Demi Vollering, ma altro podio italiano, Gaia Realini. Gaia Realini, che fa una gran bel rimonta, se non ho visto male, perché, tra l'altro, mentre facevo, comunque, vedevo le fasi finali della freccia a vallone femminile, però, podio per Gaia Realini, e comunque siamo contenti. Tornando alla freccia a vallone maschile, che dire, c'è una fuga iniziale che viene ripresa, anche abbastanza presto, insomma, non hanno assolutamente speranze, tutti in gruppo vorrebbero mettere in difficoltà la UAE, che si trova costretta comunque a tirare per andare a riprendere questa fuga. Però, comunque, la UAE è forte. Poi, nel finale, sale in cattedra. Cioè, ricordiamo, ok, vittoria di Bocaciar, grandissimo, ma la squadra. Cioè, questa è una corsa che, se ti manca la squadra, puoi andare veramente in difficoltà. Diego Ulissi, fra gli altri, insomma, citando un italiano, ma tutti gli altri della UAE anche. Cioè, tanta roba, tanta roba si mettono lì a tirare, comunque, scremano un pochettino il gruppo. Pogaciar, ah, Irschi, tra l'altro, ecco, eccone un altro. Pogaciar, comunque, o Pogaciar, io non ricordo mai com'è la pronuncia giusta, insomma. Però, vabbè, abbiamo capito. Taddei, o Taddeo, che dir si voglia, dice ai compagni, ok, aumenta il ritmo, ok, abbassalo. Insomma, cioè, si gestisce, si orchestra la situazione, e poi, alla fine, zampata. Quindi, che dire, anche il lavoro dei compagni, fantastico. Però, stavo dicendo, prima fuga di giornata ripresa, poi, se ne vanno via, va via all'inizio, Samuele e Battistella, se non erro, dopo un passaggio sul muro di Wii. Quindi, un italiano davanti, in testa alla corsa abbiamo avuto, almeno questo, insomma. Poi, se ne aggiungono altri, tra cui, Vervec, della Sudal Quickstep, e, non ricordo chi al momento, però vabbè, mi sfugge. Insomma, erano in quattro ad un certo punto, poi rimangono in due, poi ne rimane uno, solamente Vervec, appunto, che però viene ripreso perché all'imbocco del muro di Wii, quindi a un chilometro e due, a un chilometro e un altro a guardo, a dieci secondi, cioè, dieci secondi sul muro di Wii, è come se fossi in gruppo, cioè, non sono nulla, praticamente. Basta uno scatto, una ventina di pedalate da dietro e ti hanno ripreso. Va, fatto, fatta, insomma. Lo riprendono, praticamente, all'imbocco del muro di Wii, e nemmeno sulla parte più dura. Una fase di studio, perché sì, ok, manca un chilometro, ma è come se ne mancassero due, tre, perché comunque è molto lenta la progressione, anche se questi, ormai, se le mangiano le salite, però, quello è un altro paio di maniche. Fatto sta all'inizio, un po' di studio, così, sono tutti, comunque, abbastanza stanchi. Si lotta per prendere, nella migliore posizione, questo muro finale. Ripeto, Pogacar, sempre lì davanti, in controllo, posizione perfetta. Prima si fa trainare, poi si scansa un suo compagno e rimane lì davanti. Comunque, Bardet, che prova a scattare, prova a anticipare tutti, ma rimane chiuso, rimane chiuso sulle transenne da Michael Woods, che è davanti a lui, e che non va verso il centro della strada, come invece Bardet si aspettava. Insomma, queste situazioni qui. E poi, alla fine, succede quello che succede. Ciccone era comunque piazzato bene, perché, cioè, si mette a ruota di Pogacar, meglio di così. Il problema è che, una volta che Pogacar dà lo strap, e quindi, come detto all'inizio, supera Bardet, Ciccone, cioè, lo vedi, che prova ad alzare sui pedali, ma le gambe, ad un certo punto, non rispondono più. Si deve risedere, e alla fine, comunque, chiuderà in quinta posizione, che io reputo un buon risultato. Certo, fosse stato terzo, magari, sul poteo sarebbe stata tutta un'altra cosa, però, in quinto posto, la Frecciavalone per lui, insomma, non è male, non è male, e vediamo, domenica, cosa farà la Liegi, insomma. In terza posizione, Michelanda, in seconda posizione, Schilmos, della Trexica, credo sempre, se non erro, sì. E, in prima posizione, appunto, Taddeo, super Taddeo. Quindi, due su tre, domenica, domenica, c'è la Liegi, la Doyen, e c'è anche Evenepul, insomma, campione uscente, quindi, vediamo se ci sarà questo scontro diretto, no, sulle salite, fra i due. Io spero veramente di sì. Vediamo, se Pogacar, è interessante, anche sotto questo punto di vista, perché Pogacar potrebbe fare, potrebbe, portare a termine, conquistare, insomma, il trittico delle Ardenne. il compito di Evenepul è difendere il titolo dell'anno scorso e rovinare la festa, no? Poi, tra virgolette, a Pogacar. Quindi, insomma, anche sotto questo punto di vista, bella intricata la situazione. Quindi, ci piace, ci piace, premetto già da subito che domenica, non so se potrò fare il video, perché ancora in forze, se sarò, o meno, a casa. Seguirò, cercherò di seguire, comunque, almeno a grandi linee la corsa. Un attimo, un commento sul giro delle Alpi, che dire, tre tappe che finiscono abbastanza presto, insomma, nel primo pomeriggio, quindi, non ho potuto seguire al meglio fino ad ora. Oggi ho visto, comunque, gli ultimi chilometri. Delle belle tappe in preparazione, anche per il giro, insomma, proprio a livello, in preparazione generale dell'Atleta. Insomma, un giro interessante che negli ultimi anni ha acquistato sempre più valore e Gaugan Hart mi è sembrato in controllo. Anche oggi che non ha vinto, perché le due tappe precedenti le ha vinte lui, ma anche oggi, che non ha vinto, comunque, mi è sembrato in controllo. Brava Labora, comunque, che fa doppietta. E Labora è una squadra che se ci si mette, anche tecnicamente, anche tatticamente, comunque, può fare buone cose. vince Lennar Kemna, che a livello generale di corridori, diciamo così, è uno dei miei preferiti. Quindi, sono anche contento sotto questo punto di vista. Quindi, che dire, maia di leader, sempre sulle spalle di Tao, Gaugan Hart. Questa, diciamo, fra quella di oggi, si arrivava a Brentonico, dopo una bella salita, più di dieci chilometri, se non vado errato, era, insomma, la tappa più, più complessa, un po' più dura, in generale, diciamo così, di questo giro, di questo Tour of the Alps, ditemi la vostra, qui sotto nei commenti, anche su questo, su questo, su questa breve, corsa a tappe. Insomma, iscrivetevi, campanella mi piace, ancora, ditemi la vostra, su tutta quanta la giornata ciclistica, fate il pronostico, anche magari, per la Liegi, di domenica, e, al prossimo video, ragazzi. Grazie.